Il Signore è nel servizio e nell'incontro. Se noi cristiani imparassimo il servizio e ad andare incontro agli altri, come cambierebbe il mondo? Con questa considerazione, Papa Francesco ha concluso l'omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. Un incontro che si svolge nella gioia, ha spiegato il Pontefice, che è il messaggio cristiano, e quelli con la faccia storta non sono pienamente cristiani. Un incontro che esprime il coraggio di donna di Maria, la capacità di andare incontro agli altri, la mano tesa in segno di aiuto, sollecitudine. L'incontro è un altro segno cristiano. Una persona che dice di essere cristiana non è capace di andare incontro agli altri, di incontrare gli altri. e non è totalmente cristiana. Sia il servizio che l'incontro vogliono uscire di se stesso, uscire per servire e uscire per incontrare, per abbracciare un'altra persona. e con questo servizio di Maria, con questo incontro, si rinnova la promessa del Signore, si attua nel presente, e in quel presente è proprio il Signore, come abbiamo sentito nella prima lettura, il Signore è tuo Dio in mezzo a te. Il Signore è nel servizio, il Signore è nell'incontro.